Musica Aspetta, guarda, il trucco di questa roba qui L'idea di tatuare un marmo mette semplicemente in relazione due mondi e questo crea un collegamento con il passato Non è un mistero Musica Bisogna scegliere materiali che siano molto porosi e siano in grado di assorbire il colore e non deve sembrare verniciata il tutto deve essere come sulla nostra pelle Musica Non c'è più la mano d'opera Musica C'è una concavità e poi qui c'è un'altra convestità e poi c'è un'altra concavità qui si vedono, si capiscono se uno le deve fare ma che donano la bellezza all'opera Musica 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 Musica